ciao ragazzi e ragazzi bentornati nel canale oggi vi porto allora un fai scopa numeri fortunati un super porta fortuna visto che mi ha portato fortuna la volta scorsa con 40 euro e il vincitore allora ragazzi iniziamo subito con fai scopa che è il più piccolino un attimo che zoom ok si si vede bene allora iniziamo subito a grattare le carte sul tavolo 2 17 quindi dovrebbe essere è un 10 2 più 1 più 7 allora 10 iniziamo subito a grattare 2 qui abbiamo un 3 qui abbiamo un attimo che non 9 poi qui abbiamo un 8 un 5 un asso l'altra giocata usate ma devo un 7 poi abbiamo un 4 un 6 un 9 e 4 e infine un 3 quindi biglietto perdente adesso abbiamo i numeri fortunati ok si vede bene e iniziamo a grattare 21 eccolo qui ok poi abbiamo il 30 il 30 il 30 il 30 non c'è poi abbiamo il 12 12 12 niente il 63 che non vedo nemmeno c'è 62 63 non c'è poi abbiamo il 78 eccolo qui poi il 18 ultima colonna questa monetina non gratta tanto bene poi abbiamo il 52 qui poi abbiamo il 52 qui qui poi abbiamo il 58 eccolo qui vediamo un attimino ok 64 eccolo qui è molto difficile abbiamo 55 25 e ce l'abbiamo qui il 25 no non c'è il 42 no non lo vedo poi abbiamo il 34 34 sì il 34 e non c'è infine no infine no ultimo numero 47 che non troviamo nemmeno ultimo numero 39 eccolo qui ma non facciamo niente ragazzi biglietto perdente adesso abbiamo il super porta fortuna allora iniziamo a grattare gli importi duecento mila euro duecento mila euro dieci mila euro dieci euro dieci euro quindici euro dieci mila euro 100 euro poi abbiamo 40 euro 100 euro 10 euro 400 euro 400 euro e sono 2400 ma non se ne parla nemmeno 210 euro diamo l'ultimo 3 euro niente di fatto ragazzi niente di fatto qui va bene allora adesso il secondo gioco dei simboli forziere pentolone coccinella e infine stella niente di fatto ragazzi anche questo è perdente adesso abbiamo scusate adesso abbiamo il vincitore allora grattiamo i numeri vincenti 14 13 e 39 diamo se riusciamo a trovare un numero numerino 44 29 24 37 41 16 38 abbiamo 39 49 e 47 numeri bonus 31 che non vedo abbiamo il 41 al 31 non c'è è il 22 22 niente niente allora iniziamo con questo secondo gioco gioco dei simboli hotel carte poi foto e scute vela e portafoglio sole e chitarra simbolo bonus nave che non troviamo passiamo al terzo gioco allora abbiamo 150 euro 150 mila euro 300 euro 15 euro e qui troviamo 50 euro ragazzi questo video non c'è dalla soddisfazione sarà tutti perdenti va bene ragazzi dai alla alla prossima grazie ciao alla prossima un altro video 15 21 24 21 21 22